Se stai avendo problemi ad usare così il controller sul gioco Tron & Liberty è possibile risolvere il problema aggiungendo un layout personalizzato sul gioco. Quindi in questo caso andiamo così a collegare il nostro controller, ovviamente il computer andrà a rilevare il nostro controller. In questo caso vai direttamente a scrivere controller, configuro dispositivi di gioco usp ed eccolo qua. Questo è il mio controller che ho inserito sul computer, vado su avanzate e lo inserisco. Proprietà per verificare che il controller funzioni perfettamente, quindi funziona e facciamo ok. Ok, se invece hai problemi con i driver vai direttamente su gestione dispositivi ed eccolo qua. Aggiorna driver. Inoltre installato devi riavviare il computer. Poi andiamo così ad abilitare la modalità Big Picture. Visualizza modalità Big Picture. Andiamo sul nostro gioco. Eccolo qua. Vado direttamente su controller. Faccio avanti. Abilità Steam Input. Modifica Layout. Questi sono tutti i layout, tutti i comandi che puoi modificare. Mostra Layout. Oppure clicca qua sopra. E vai su Layout della comunità. Ed eccoli qua. Puoi scaricare così Layout e applicare il nuovo Layout. Layout controller. Applica Layout. Applica Layout. Indietro. Controller. Abilitato, abilitato, tutt'Abilistime Input. Quindi funziona il controller dell'Xbox, playstation, Nintendo Switch e altri controller generici. La cosa puoi farla anche in generale su Steam proprietà. Vai su controller ed eccolo qua. Abilità Steam Input. Quindi adesso è abilitato per tutti i controller. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.